mamma fa un freddo ciao Mauro ma da quanto tempo che non ti vedo? ma c'è sempre della bellissima roba guarda te incredibile ma che affermazione fai Mauro? dovresti saperlo poi dipende da quanto vuoi spendere ma Mauro una cinquantina di euro tec e con una cinquantina di euro ti do un pacchetto di caramelle lo soplo! bellissio! lo soplo!